Il risultato è stata eletta alla Camera dei Deputati Il risultato è ufficiale e Fratelli d'Italia esulta. Il centrodestra fa un play in regione. A Esernia intanto il sindaco Castrataro valuta la posizione dell'assessora Scarabeo che ieri ha riconsegnato la delega alla salute. Sto bene, ringrazio tutti per l'avvicinanza. Queste le prime parole di Monsignor Bregantini dopo l'intervento al Neuromed e sulla sanità si teme per l'imminente chiusura del punto nascita di Termoli. Il commissario Toma dopo il tavolo tecnico a Roma annuncia un accordo di confine con Abruzzo e Puglia. Il giro d'affari del gioco d'azzardo è aumentato in un anno di oltre 20 miliardi. Solo a Termoli si giocano 1700 euro pro capite. Se ne è parlato in un incontro con gli studenti del Majorana proprio nella città adriatica. In occasione della giornata mondiale per l'aborto libero, sicuro e gratuito a Campobasso dibattito con tante ragazze che ai microfoni di Teleregione denunciano L'interruzione della gravidanza in Molise non è garantita. Un voucher di 100 euro per chi decide di adottare un amico a quattro zampe dal canile municipale di Santo Stefano a Campobasso. Questa l'ultima iniziativa dell'amministrazione gravina. Infine allo sport il calcio, pomeriggio da X per le molisane. Il Termoli ha pareggiato in casa col Porto d'Ascoli 1 a 1, ottenendo così il primo punto in questa stagione. Il vasto Girardi ha fatto 0 a 0 col Pineto tra le mura amiche e c'è attesa per il Galà di domani in cui la Figi Cimolise celebrerà i 30 anni della propria autonomia. Per l'occasione con Di Cristinzi ci saranno anche il presidente nazionale Gravina e il numero 1 della LN di Abete. Turno infrasettimanale anche in eccellenza e promozione vincono Campobasso 1919 Isernia. Buonasera, ben trovati all'ultima edizione del Tg di Teleregione che si apre con la notizia clamorosa arrivata nel pomeriggio dell'attribuzione del quarto seggio parlamentare a Elisabetta Lancellotta di Fratelli d'Italia e non come erroneamente annunciato dal Viminale ieri a Caterina Cerroni del PD. Quest'ultima quindi resta fuori dal Parlamento. Alla Camera siederà Elisabetta Lancellotta che abbiamo sentito subito dopo l'ufficialità della notizia in diretta nel Tg delle 19.30. Sentiamo che cosa ci ha detto. Una notizia che è arrivata in un momento inaspettato ma in realtà ci ho sempre creduto perché i molisani mi hanno sostenuta e supportata sin dall'inizio della campagna elettorale e anche con le preferenze è stato un plebiscito di voti. Io li ringrazio, dedico a loro questa vittoria e manterrò tutte le istanze a tutela del nostro Molise, della nostra regione e lavorerò a servizio dei cittadini e del nostro Molise. Le chiedo cosa è accaduto e quando è stata avvertita di questo cambio dell'attribuzione del seggio? Dunque io ero ad una conferenza stampa proprio per il trofeo che si farà qui allo stadio Mario Lancellotta di Iternia il trofeo delle regioni importante manifestazione sportiva che si terrà sabato. Prima volta nella nostra regione attribuita dalla FIDA all'organizzata di un'associazione sportiva dell'Atletica Iternia ed ero in questa conferenza stampa. Finita la conferenza stampa c'è stato un convegno. A chiusura del convegno ho ricevuto delle telefonate e in queste telefonate mi è stato comunicata l'attribuzione del seggio. Quindi una grandissima emozione inaspettata, però diciamo che un po' ci ho creduto perché insomma credevo fosse quasi impossibile che potesse non succedere qualcosa del genere. Quindi l'emozione è ancora tanta, ma la gioia è immensa. E il mio grazie va ai molisani e a tutti coloro che hanno creduto in me. Lei peraltro proprio pochi minuti prima che si sapesse questa notizia aveva attraverso un post ringraziato appunto tutti gli elettori che avevano espresso una preferenza verso di lei, verso Fratelli d'Italia. Insieme a Costanzo della Porta, suo collega di partito, siete i molisani che rappresenteranno questa regione in Parlamento insieme a Cesa e Lotito. La prima cosa su cui punterà l'attenzione è l'Ancellotta. Il decreto Molise, azzerare il debito sanitario, la viabilità, le infrastrutture, costruire la superstrada, la quattro corsia è fondamentale per unire Tirreno ed Adriazzo. Queste saranno le nostre priorità insieme a tante altre, azzerare ovviamente il lavoro sul nostro territorio perché la nostra è una regione alla quale non manca nulla, quindi dobbiamo investire, bisogna investire nell'impresa del nostro territorio e aiutare assolutamente i giovani a rimanere nel nostro territorio. L'altra data, la giusta attenzione, saremo presenti sul territorio, non faremo come i precedenti deputati che non sono stati presenti sul territorio, noi ci saremo e lo faremo costantemente, a stretto contatto con i cittadini. Questa è una promessa che abbiamo fatto in campagna elettorale e che manterremo assolutamente con forza e determinazione. Ringrazio il partito, Fratelli d'Italia, per aver dato a me, a costanza della porta, questa importante opportunità per averci scelto, per essere candidati, due amministratori che hanno a cuore veramente la loro regione e tutti i comuni della regione stessa. Sentirà oppure ha già sentito Giorgia Meloni? Ancora non l'ho sentita ma la sentirò presto. Bene, per concludere, visto che lei è una donna di sport, l'ancellotta come gesto di fair play, insomma, magari un saluto, anche l'onore delle armi a Caterina Cerroni che fino a poche ore fa era destinataria di questo seggio che ora invece è andato a lei, magari chissà in un futuro per il Molise si potrebbe anche collaborare, chi dal Parlamento e chi dall'esterno, chi lo sa? Assolutamente sì, assolutamente sì, grande un pensiero a Caterina Cerroni che comunque ha lavorato bene, è una giovane donna che è preparata, che ha investito tanto, quindi il pensiero assolutamente va a lei e a tutti coloro i quali si impegnano per la nostra regione. E ancora auguri a lei, in bocca al lupo, dovrà rappresentare il Molise nei prossimi cinque anni in Parlamento. Grazie, grazie, viva il lupo, un abbraccio a voi tutti e viva il Molise. Nicola Lanza ha voluto ringraziare i propri elettori, grazie alle 2.211 persone che nel Molise hanno scelto di votarci, abbiamo perso, non siamo ancora un insieme capace di rappresentare un'alternativa credibile, grazie a tutte le persone, agli amici che in questi giorni ci hanno inviato dei messaggi di vicinanza e di sostegno, noi ripartiamo da questo piccolo risultato per costruire un insieme capace di rappresentare nel Molise un'alternativa credibile a queste coalizioni in campo. Queste le parole quindi di Nicola Lanza. Ed ora il coronavirus con i numeri diramati dall'ASREM attraverso l'ultimo bollettino, fortunatamente una giornata senza decessi, c'è però un nuovo ricovero, una persona di Campobasso è stata trasportata in malattie infettive, sono complessivamente 7 i degenti al Cardarelli, tutti in malattie infettive. I nuovi casi, contagi che aumentano rispetto alle scorse ore, i nuovi sono 143 relativamente a 543 tamponi processati, 14 le persone positive al tampone molecolare, 129 al test antigenico, con un indice di contagiosità che è al 26,3%. I guariti sono 224, gli attualmente positivi 3.659. Ed ora parliamo delle condizioni di salute di Monsignor Bregantini. L'arcivescovo di Campobasso, sono state pubblicate dall'Ansa le sue prime parole dopo l'intervento, qui è stato sottoposto al neuromed di Pozzilli. Sto bene, l'intervento è andato bene, ha detto, ringrazio tutti per l'affetto e la vicinanza. L'arcivescovo rimarrà ancora ricoverato al neuromed, scusate, resterà sotto osservazione, dovrà anche effettuare altri controlli. Ha ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza appunto in questi giorni. Lui ha detto, ringrazio tutti, è stata una grande dimostrazione d'affetto. Mi sono arrivati messaggi anche da persone che non mi aspettavo ed è stata una bella cosa. Quindi buona guarigione, buona ripresa a Monsignor Bregantini. Ed ora andiamo al Comune di Sernia. Ci occupiamo di un caso politico scoppiato nelle ultime ore. L'assessora Scarabeo che ha riconsegnato la delega alla salute e adesso il primo cittadino a Castrataro, bersaglio delle sue critiche, sta valutando la posizione della dottoressa. Sentiamo Nicola De Santis. Acque agitate in maggioranza al Comune di Sernia. Come noto l'assessore Francesca Scarabeo ha rinunciato alla delega alla sanità, sostenendo che il sindaco Piero Castrataro le abbia messo i bastoni tra le ruote impedendole di svolgere serenamente il proprio mandato. Una dichiarazione pesantissima che getta un'ombra sull'operato del primo cittadino nella difesa della sanità pubblica. Cosa farà ora Castrataro? È l'interrogativo che pervade i corridoi di Palazzo San Francesco. In teoria l'incarico assessorile è fiduciario ed è ovvio che in questo caso la fiducia tra il sindaco ed il suo assessore si è avvenuta meno. Dunque l'epilogo appare scontato. Tuttavia Castrataro si è preso qualche ora di tempo per riflettere ed ha avviato un giro di consultazioni tra i suoi fedelissimi al fine di valutare serenamente il da farsi. Ieri tutti i gruppi di maggioranza si sono riuniti per valutare la situazione. Oggi i capigruppo incontreranno il sindaco per illustrare l'orientamento di partiti e movimenti. Dunque determinanti per il futuro dell'incarico alla Scarabbeo saranno le prossime ore. Nell'effettuare una rigorosa analisi sul contesto che si è determinato a Isernia bisogna però considerare che in regione tra 8-9 mesi si vota ed uno scossone politico dagli esiti incerti non conviene a nessuno in questo frangente. Ma qual è stato il caso Sbelli che ha portato a questo strappo tra la Scarabbeo ed il primo cittadino? Stando alle indiscrezioni il vice sindaco Federica Vinci avrebbe annunciato in giunta di aver interpellato un esponente di un comitato affinché relazionasse in maggioranza sulla sanità pubblica. La dottoressa Venafrana ha vissuto questo sconfinamento di campo come una vera e propria ingerenza nel proprio operato uno sgarbo istituzionale assumendo così la decisione di riconsegnare le deleghe al sindaco. Se sia stato solo un equivoco oppure la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso lo scopriremo a stretto giro di posta magari già nel Consiglio Comunale in programma domani. Chiusura del punto nascita di Termoli da Roma vogliono andare avanti il commissario Toma dopo il tavolo tecnico romano di ieri annuncia però l'accordo di confine con Abruzzo e Puglia. Sentiamo Pierluigi Boragine. Il nuovo piano operativo 2022-2024 molto presto sarà inviato a Roma per una preventiva valutazione. Così il commissario ad acta Donato Toma di rientro dalla capitale dove ieri si è tenuto il tavolo tecnico sulla sanità molisana. Durante il vertice con i rappresentanti dei ministeri era presente anche il nuovo DG della Salute e lo russo oltre alla storica dottoressa Duce si è parlato anche della radioterapia del Gemelli. Agenas, agenzia per i servizi sanitari regionali entro pochi giorni ci dirà qual è il fabbisogno del Molise ha spiegato il commissario alla sanità ciò servirà per delineare bene il budget da mettere a disposizione della struttura e magari per evitare inconvenienti del genere anche in futuro. Quello di radioterapia è un caso scoppiato il 2 settembre e proseguito per molti giorni a colpi di comunicati stampa e conferenze un braccio di ferro tra struttura commissariale e centro convenzionato che ha irritato non poco che è costretto a curarsi per lottare contro un brutto male. Roma ha dato l'ok anche per una maggiore efficienza nei controlli sulla appropriatezza delle prestazioni rese dai privati convenzionati. Altro tema caldo dell'incontro il punto nascite di Termoli dopo che il Tar ha stabilito che alle partorienti molisane vanno indicati percorsi alternativi condizio sine qua non per procedere alla chiusura del reparto che dunque è dietro l'angolo. Sono in corso, ha aggiunto Toma interlocuzioni con le altre regioni per gli accordi di confine Abruzzo ma anche Puglia ha detto il commissario che si è soffermato anche su emodinamica mancano medici attualmente abbiamo quattro emodinamiche ci hanno prospettato la riduzione a due abbiamo chiesto una deroga per lasciarne tre. Dopo una lunga pausa dovuta alle vacanze estive e alle elezioni è tornato a riunirsi il Consiglio regionale del Molise che ha approvato all'unanimità cinque mozioni gli atti di indirizzo riguardano la stabilizzazione dei precari dell'azienda sanitaria presentato dai consiglieri Cinque Stelle Angelo Primiani e Andrea Greco il caro Bollette presentato dal capogruppo del PD Micaela Fanelli la valorizzazione e la riconversione del vivaio di San Pietro Avellano presentato dalla consigliera dei Fratelli d'Italia Aida Romagnolo l'uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori con più di 62 anni dipendenti di aziende in crisi presentato ancora da Micaela Fanelli e la riapertura a tempo pieno del laboratorio analisi dell'ospedale di Agnone presentato dalla consigliera Aida Romagnolo di Fratelli d'Italia questi punti sono stati tutti approvati come detto all'unanimità e ora parliamo di una piaga sociale qual è la ludopatia il giro d'affari del gioco d'azzardo è aumentato in un anno di 20 miliardi solo a Termoli si giocano 1700 euro l'anno pro capite questo dato è emerso nel corso di un incontro che c'è stato proprio nella città adriatica all'istituto Majorana e che è stato seguito per noi dal collega Emanuele Bracone il giro di affari che ruota attorno alla ludopatia è aumentato in un solo anno di oltre 20 miliardi passando dagli 88 miliardi del 2020 ai 112 del 2021 una manovra di governo tanto per capire la portata del fenomeno al centro di un incontro dibattito che si è svolto a Termoli all'istituto industriale Majorana in via Palermo cifre impietose che mostrano il dilagare della dipendenza da gioco che assieme a stupefacenti e alcol rappresentano il perimetro dell'attività dei CERD della sanità pubblica gioco soldi e dove ci sono soldi c'è il rischio che ci sia la malavita organizzata no non è un gioco e purtroppo tutta questa diffusione del gioco d'azzardo legale con i soldi che fa girare 110 miliardi di raccolta nel 2021 sono dati ufficiali è chiaro che sono molto attrattivi per le mafie che oltre alla gestione del gioco illegale che fanno da sempre possono entrare attraverso vari strumenti e con varie finalità nel business e nel gioco legale pensiamo al riciclaggio pensiamo al controllo dei territori pensiamo alla clonazione dei sistemi informatici di controllo delle macchinette a Termoli riferisce il dottor Simone responsabile distrettuale CERD sono una cinquantina i pazienti seguiti ma sono solo la punta dell'iceberg poiché a differenza degli altri abusi come droghe e alcol c'è molta più reticenza e omertà nel chiedere aiuto nella sua città di Termoli si giocano ogni anno pro capite 1700 euro e oltre 55 milioni di euro capiamo quanto importante è oggi contrastare questa malattia malattia vera e propria perché così è stata riconosciuta nel 2012 per questo motivo noi stiamo facendo con l'associazione Casa di Diritti un'azione informativa di conoscenza sul territorio tra i ragazzi anche nelle realtà dove ci invitano stiamo facendo appunto un'attività di informazione e a supporto poi anche di questa iniziativa abbiamo questo numero verde telefonico con ragazzi del servizio civile che rispondono al telefono appunto a Teut Italia con il supporto di psicologi anche con una rete di professionisti per la materia del sovrendebitamento A fronte di questi dati vista la continua richiesta di intervento e l'assenza delle istituzioni le associazioni consumer e Casa dei Diritti hanno attivato il numero verde 800 661 501 un centralino gratuito attivo per sei giorni alla settimana pensato per entrare in contatto diretto con le persone che sono vittime di gioco d'azzardo patologico E' da tre anni che seguiamo questo chiaramente chiamiamolo filone di interesse e io dico interesse perché quando parliamo di ludopatia dobbiamo stare ben attenti a distinguere ciò che è intrattenimento e il gioco da ciò che è dipendenza questo lo dobbiamo far capire soprattutto alle classi più giovani perché proprio dalle classi più giovani arrivano segnali forti di dipendenze e i telefonini sono il primo esempio che noi dobbiamo mettere sempre sul piatto quando parliamo di dipendenze passare da quel tipo di dipendenza ad altre dipendenze purtroppo è estremamente semplice dobbiamo assolutamente far comprendere a tutti che cosa significa essere dipendenti dobbiamo mettere in guardia sui rischi del gioco dobbiamo far capire a tutti che è un problema reale anche se è un problema che viene spesso sottovalutato e non è solo un problema reale per gli adulti le loro famiglie le persone che si indebitano per giocare che entrano in una vera e propria spirale che li allontana dalla famiglia dal lavoro e ovviamente fa perdere un sacco di soldi ma comincia a diventare col gioco online anche un problema per gli adolescenti siamo ben contenti di poter ospitare tutti in presenza questi eventi sono fondamentali sono segno di quella sinergia che si crea tra la scuola e l'extrascuola quindi la proposta che abbiamo avuto di educare di formare di far riflettere i nostri studenti su un tema così importante come quello di cui parliamo quindi la ludopatia e tutto ciò che poi è connesso di conseguenza è un'occasione davvero preziosa oggi è la giornata mondiale dell'aborto libero e sicuro un tema questo che è entrato anche nella campagna elettorale ormai chiusa e a Campobasso si è discusso di questo argomento in un incontro dibattito che ha coinvolto tante ragazze che hanno lasciato la loro testimonianza ai nostri microfoni sentiamole in Italia l'aborto è legale dal 1978 quando fu approvata la legge 194 che prevedeva l'abrogazione degli articoli del codice penale riguardanti reati d'aborto è possibile interrompere la gravidanza entro 90 giorni dall'inizio della gestazione oppure tra il quarto e il quinto mese solo per motivi di natura terapeutica questa mattina in occasione della giornata mondiale per l'aborto libero sicuro e gratuito si è svolto un presidio presso piazza Musenga con assemblea e dibattito sulle difficoltà che una donna molisana incontra nell'interrompere la gravidanza il messaggio che giunge da questa piazza è che noi siamo qui per rivendicare il nostro diritto all'aborto libero sicuro e gratuito cosa che in Molise chiaramente non accade su tre presidi ospedalieri soltanto uno è autorizzato a praticare i VG e c'è soltanto un medico che non è anti-abortista e che quindi pratica i VG con un 92,3% di obiezioni di coscienza per quanto riguarda ginecologi e ginecologhe un 75% di obiezioni di coscienza per quanto riguarda le anestesiste e gli anestesisti e un 90,9% di obiezioni di coscienza per quanto riguarda il personale non medico quindi il rischio è quello di finire fuori regione esatto il rischio è quello di uscire dalla regione per un diritto che dovrebbe essere inalienabile e indiscutibile e che in realtà viene garantito tra virgolette soltanto alle persone che eventualmente possono permettersi di uscire dalla nostra regione e quindi pagare sostanzialmente quindi se non si hanno delle possibilità economiche non si riesce ad accedere liberamente all'Ivg il premier in pectore Giorgia Meloni durante la campagna elettorale ha dichiarato di non voler eliminare la legge 194 ma di volerla applicare integralmente cosa temete? al momento no in realtà non temiamo niente cioè ovviamente a parte la deriva che sta prendendo il paese che è un timore che abbiamo tutti quanti ha vinto la destra le elezioni pochi giorni fa quindi sicuramente ci sarà una ripercussione sui nostri diritti però d'altro canto si stanno creando un sacco di aggregazioni spontanee c'è un momento di fermento anche nella nostra regione per cui in realtà crediamo che col tempo riusciremo a riprenderci le piazze a far sentire la nostra voce e a rivendicare i nostri diritti il mondo di Aidel è un libericino che raccoglie dieci fiabe scritte dagli alunni di tutta Italia sul bambino vissuto a Isernia 600.000 anni fa al Paleolitico c'è stata la fase conclusiva di questa iniziativa molto bella e partecipata all'interno del museo del Paleolitico di Isernia evento conclusivo per l'iniziativa Il mondo di Aidel raccolta di fiabe degli alunni sul paleosuolo a scatenare la fantasia degli scrittori in erba il rinvenimento del dentino da latte appartenuto ad un bambino vissuto 600.000 anni fa nel libricino hanno trovato ospitalità 20 fiabe sulle oltre 200 pervenute alla giuria sostanzialmente gli scritti ritenuti maggiormente aderenti ai criteri del concorso il progetto è nato nel 2020 Il concorso l'intento era quello di far veicolare attraverso le fiabe diciamo la cultura storica che nasce da questo museo che è rappresentata da questo museo questo museo in chiave fiabistica può essere visto come una sorta di macchina del tempo qualcosa di magico che ci trasporta nel passato e ci avvicina all'uomo disegna di questi territori di 600.000 anni fa attraverso la conoscenza sia del territorio e della fauna di questo territorio dei pesci abbiamo un sacco di ossa conservate in questo museo ebbene i bambini hanno lavorato rispetto a queste conoscenze e a queste tradizioni culturali della nostra terra per elaborare fiabe a tema al tema del dentino del bambino di Sernia di tutto ciò che in questo museo è in qualche modo conservato per essere tramandato il concorso ha avuto un grande successo perché sono arrivati elaborati un po' da tutta Italia abbiamo avuto anche difficoltà nella scelta nel premiare tant'è che alla fine abbiamo deciso di scegliere ben dieci racconti che fanno parte del libro che oggi è stato presentato c'è stata una presenza di pubblico importante docenti presidi mamme ma soprattutto i ragazzi che sono i veri protagonisti di questo evento un bel gesto di solidarietà da parte dei carabinieri di Isernia verso una signora ricoverata all'ospedale veneziale da qualche giorno che aveva lasciato una borsa con gli effetti personali all'interno di un locale qui in cui l'esercizio pubblico aveva avuto un malore da lì poi era scattato il trasporto d'urgenza e il ricovero in ospedale ebbene i carabinieri allertati dal 112 hanno riportato gli effetti personali della signora con lo stupore di tutto il personale sanitario e gli elogi e il ringraziamento da parte della diretta interessata e di tutto lo staff dell'ospedale quindi un'ennesima dimostrazione della vicinanza dell'arma dei carabinieri ai cittadini un voucher di 100 euro per chi decide di prendere un amico a quattro zampe dal canile municipale Marisa Civerra di Santo Stefano frazione di Campobasso è l'iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale nell'ambito della campagna di sensibilizzazione avviata da tempo un amico vero non lo compri lo trovi in canile questo è lo slogan del progetto che vuole coinvolgere le famiglie sull'importanza delle adozioni dal canile in alternativa all'acquisto di un cucciolo in negozio gli ospiti del canile comunale sono tanti fa sapere l'assessore dell'ambiente Simone Cretella circa 250 un numero che nelle ultime settimane sta aumentando a causa dei numerosi rinvenimenti e degli abbandoni sul territorio oramai purtroppo all'ordine del giorno e quindi chi volesse può adottare un cagnolino dalla struttura di Santo Stefano a Campobasso giornata europea del patrimonio il museo dei misteri ha aderito a questa iniziativa all'ennesima occasione per dare mostra di sé i luoghi del cuore fa i 20-22 è stata appunto una nuova chance per il museo dei misteri di aprire al pubblico seguiamo il servizio di Alessandro Adamo il museo dei misteri ha aderito anche quest'anno alla giornata europea del patrimonio il museo aperto ai turisti nei giorni del 24 e 25 settembre un impegno che significa salvaguardia ed attenzione alla più importante manifestazione dell'anno per Campobasso e per il Molise la sfilata dei misteri anche quest'anno abbiamo aderito a questa iniziativa che il Mibac organizza in tutta Italia e quindi da due o tre anni partecipiamo anche noi perché vale la pena anche per chi viene da fuori a visitare il museo in queste due giornate molti turisti molte persone anche di Campobasso che vedendo anche queste due giornate hanno voluto vedere il museo anche perché quest'anno si è riusciti dopo due anni di pandemia e quindi la gente ha anche voglia di vederli spogli tra virgolette non è stato semplice perché le restrizioni ancora erano in vigore fino al 14 di giugno diciano per la Corpus Domini però abbiamo fatto del nostro meglio e quindi la gente è rimasta contente come naturalmente ci aspettavamo queste giornate sono state anche l'occasione per votare il museo dei misteri nel concorso i luoghi del cuore FAI 2022 concorso che scadrà il prossimo 15 dicembre quest'anno il museo è candidato tra i luoghi del cuore attualmente siamo anche primi in classifica nella classifica provvisoria nazionale con oltre 14 mila voti si può votare fino al 15 di dicembre speriamo che oltre a votare online ci sono anche delle schede su cui si può votare lasciando una firma sia qui al museo che anche in molti locali della città però invitiamo tutti a votarlo perché ne vale la pena e poi è una bella vetrina per tutta l'Italia quest'anno dei dati della prefettura hanno stimato 300 mila persone quel giorno sicuramente l'anno prossimo con meno restrizioni e più sicurezza sicuramente aumenteranno anche i visitatori e i turisti al museo quindi l'auspicio è quello di arrivare almeno primi tra i primi tre di questo concorso e l'anno prossimo festeggiare insieme con tutta la città Bene è il momento del meteo scopriamo insieme che tempo farà nelle prossime ore in Molise Previsioni del tempo di giovedì 29 settembre una circolazione depressionaria richiama correnti umide e instabili dai quadranti sud-occidentali determinando un graduale peggioramento del tempo con rovesci o temporali sparsi localmente anche di forte intensità temperature in diminuzione venti deboli dai quadranti sud-occidentali in attenazione mare da mosso molto mosso ecco le temperature sui maggiori centri della regione Campobasso minima 15 massima 17 gradi Isernia 15-19 Termoli 16-20 Venafro 17-20 Ci vediamo dopo la sigla per la pagina sportiva restate con noi ed eccoci anche con l'ultima edizione del TG Sportivo con tanti numeri visto che nel pomeriggio si sono giocati i campionati di Serie D di eccellenza e di promozione partiamo dall'Inter regionale con l'esito di tutte le partite di questa quarta giornata quella che non si è giocata domenica per via delle elezioni allora Cinzia al Balonga Avezzano 0-2 FC Matesi e Tolentino 1-3 Monte Giorgio Chieti 1-0 Termoli Porto d'Ascoli 1-1 Vastese Roma City 5-2 Vasto Girardi Pineto 0-0 Vigor Senigallia Team Nuova Florida 3-0 Alma Juventus Fano Trastevere 3-2 infine il pareggio del posticipo tra San Benedettese e San Nicolò Notaresco per 1-1 e quindi in virtù di questi risultati la classifica vede in testa l'Avezzano con 9 punti a 8 seguono Tolentino, Porto d'Ascoli e Fano 7 punti per Trastevere, Senigallia e San Benedettese poi con 6 il Vasto Girardi, Cinzia al Balonga e il Chieti a 5 Vastese Pineto poi tutte le altre c'è il Termoli in coda con un punto insieme all'FC Matese e alla Roma City a proposito del Termoli Andiamo al Cannarsa dopo questo 1-1 dei giallorossi che così hanno ottenuto il primo punto in questa stagione in serie D stagione da matricola il vantaggio è arrivato al 29esimo proprio per i Bassomolisani con una sensazionale rovesciata di defendi a impattare i conti ci ha pensato l'ex Caprioli su calcio piazzato al 61esimo e quindi al termine del match 1-1 con un primo punto tanto agognato per il team di Esposito Ed ora andiamo in Alto Molise dove il Vasto Girardi abbiamo visto ha pareggiato 0-0 col Pineto il team Alto Molisano ha giocato lungamente in 10 elementi a causa dell'espulsione di Modesti al 44esimo ed è riuscito comunque a tenere la porta inviolata Sentiamo Vincenzo Ciccone Finisce con un risultato ad occhiali la sfida del Ditella tra Vasto Girardi e Pineto con gli Alto Molisani che centrano il terzo risultato utile consecutivo e mantengono l'imbattibilità tra le muramiche in questa stagione La prima occasione pericolosa è però per gli ospiti al sesto con Giambè ma il suo tiro va oltre la traversa La risposta Alto Molisana è in un'iniziativa di Hernandez Perez al 25esimo Zalom tra i difensori e tiro che va oltre la trasversale Sempre gli Alto Molisani si fanno pericolosi con Canale al 33esimo Palla che termina fuori La risposta pinetese è in una sortita dei Domizi Palla oltre la traversa Al 40esimo il team Nicoletti ha la sua migliore opportunità con Canale che arriva quasi a tu per tu con l'estremo ospite pronto a sventare Al 41esimo una sortita di Ruggieri viene contrata in corner Dall'angolo successivo a provarce Fiore che mette oltre la traversa Prima della fine del tempo però i padroni di casa restano in 10 Con Modesti che commette un errore in disimpegno Ed abbatta il Giambè che filava veloce verso la porta In 10 contro 11 nella ripresa Hernandez Perez a farsi vedere per il vasto Girardi al 46esimo Ma subito risponde Giambè per gli ospiti al 53esimo Quindi ancora Pineto con lo sicco sugli sviluppi di un corner Colpo di testa oltre la traversa al 55esimo C'è poi un'ulteriore fase di stasi Sino all'ottantesimo Quando ci prova Hernandez per gli alto Molisani Due difensori saltati ma un terzo gli ribatte la conclusione E tre minuti dopo quando per gli ospiti L'inzuccata di Maio servito da una cascione non ha la giusta misura Per il vasto Girardi così Ora il pensiero va direttamente sulla trasferta di domenica a Tolentino Ed ora i risultati del massimo campionato regionale Si è giocata la terza stagionale Olimpia agnonese Virtus Gioiese 1 a 2 Boiano Ruri 2 a 0 Castel di Sangro Campobasso 1919 1 a 4 Pietra Montecorvino Guglionesi 0 a 3 Campo di Pietra Venafro 0 a 12 Gambatesa Campomarino 0 a 4 Sesto Campano Iserni a 2 a 3 Infine la vittoria dell'Aurora Alto Casertano in trasferta 2 a 1 sulla Turris Ed in classifica il Campobasso è in testa con 9 punti a 7 Ci sono Aurora Alto Casertano e Gioiese Lisernia a 6 punti col Guglionesi a 4 Il Boiano, il Venafro, il Campomarino e la Turris E poi via via tutte le altre Tutto è pronto per il Galà che si terrà domani nella struttura ricettiva Coriolis di Ripa Limosani Per celebrare i 30 anni della FIGICI Molise 30 anni di autonomia per il comitato regionale presieduto da Piero Di Cristinzi Che domani ospiterà oltre a tutti i rappresentati del mondo sportivo Anche dell'informazione sportiva Anche il numero 1 della Federcalcio Gabriele Gravina Nonché il presidente della Lega Nazionale dei Lettanti Giancarlo Abete Ancora il presidente del settore giovanile scolastico nazionale Vito Tisci Oltre ad altri esponenti federali Sarà l'occasione per fare il punto delle conquiste ottenute in questi 30 anni Dalla FIGICI Molise domani a partire dalle ore 18 E chiudiamo con la palla a canestro Appuntamento con la cerimonia di presentazione della Magnolia Molisana Campobasso Sempre domani dalle ore 19 nella Molisana Arena Nella circostanza ci sarà anche la presentazione delle divise da gioco ufficiali Delle ragazze per questa stagione che verrà, che inizierà nel mese di ottobre Al termine dell'evento spazio alla musica e al divertimento Oltre che a un momento di buon auspicio per l'imminente avvio del campionato Che vedrà domenica le ragazze di Sabatelli di scena Cagliari contro Lucca Quindi ci siamo e domani ci sarà la presentazione della Magnolia Bene, tutto per questa edizione che vi ricordo potete rivedere online Attraverso il nostro sito teleregionemolise.it Grazie di essere stati in nostra compagnia Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Teleregione Arrivederci Grazie a tutti